La Lega sono io perché con questo euro che continua a uccidere le imprese, a creare disoccupazione, perderemo anche le nostre pensioni e i frutti del nostro lavoro. Dico basta euro, perché uno Stato non può essere davvero indipendente se non ha il controllo della propria moneta. L'euro ha distrutto la nostra economia, la nostra sovranità e la nostra libertà. Il 25 maggio c'è un solo voto utile per dire basta a quest'Europa, il voto alla Lega Nord. Grazie a tutti.